Il centro studi della CGA di Mestre ha fatto due conti, visto che dal nord arriva più o meno la metà del PIL, quindi della ricchezza del paese, delle tasse, degli occupati, degli investimenti e così via, ma naturalmente è sottorappresentato, questo è un dato di fatto, nel governo. Non si può non mettere in evidenza il rischio concreto che il profondo nord finisca ai margini dell'azione del nuovo governo Conte, a lanciare l'allarme è il coordinatore dell'ufficio studi CGA di Mestre, Paolo Zabeo. Ovviamente qualsiasi giudizio è prematuro, ma non si può neanche non rilevare come le ultime nomine ministeriali siano poco rappresentative proprio di quel territorio che esprime un peso economico e occupazionale estremamente significativo per la stabilità e la crescita del paese. All'irare la presenza di un ministro di 5 stelle bellunese, un ministro di Inca, in generale possiamo dire che tutto il nord è stato fortemente penalizzato, ovviamente è presto ancora per dirlo, bisognerà capirlo, lo capiremo dalle misure concrete, che questo esecutivo prenderà nei confronti delle tante richieste che in qualche modo sono sollevate dal nord, in particolar modo dalla riduzione delle tasse, dagli investimenti e soprattutto dall'infrastruttura e dall'autonomia. Le categorie produttive venete intanto attendono il governo alla prova dei fatti. Mario Pozza, presidente regionale di Union Camere, riconosce nei ministri del nuovo esecutivo la presenza di una forte professionalità, ma poi occorrono gli atti pratici. Che ci sia una politica seria, insomma, che quando si decide una cosa la si faccia e la si porti a termine, perché le imprese hanno bisogno di stabilità, hanno bisogno di chiarezza e se non c'è stabilità e chiarezza ovviamente non ci sono investimenti e non ci sono investitori esteri che vengono di investire nel nostro paese. Se il rischio è che le istanze venete passino in secondo piano, è anche però vero che la nostra regione non ha quasi mai spiccato per presenze di peso nei governi della Repubblica. Si chiama caratteristica ormai storica, diciamo che la rappresentanza nei governi di politici veneti è sempre stata molto contenuta. In parte si era compensato con l'ultimo esecutivo, ma è evidente che con pochi mesi a disposizione si è potuto fare molto poco. Come sempre quando iniziano le scuole, l'11 settembre in questo caso, ci sono gravi mancanze negli organici e ogni tanto qua e là qualche protesta dei genitori o degli insegnanti cerca di richiamare l'attenzione. Faremo un brevissimo corteo lungo la via Alessandro Volta e andremo ad occupare la statale Pontebana, mezza carreggiata. Studenti, genitori, professori e personale ATA dell'ITIS Galilei di Conegliano, mercoledì 11 settembre, primo giorno di scuola, scenderanno in strada per protestare contro lo stato in cui versa l'istituto. Siamo sicuramente preoccupati e scoraggiati per il fatto che sono passati tanti mesi e poco si è fatto. La provincia secondo noi doveva mettere in atto molte più strategie di adeguamento. Quello che noi chiediamo è la sicurezza dei nostri ragazzi a partire dall'11 settembre. Qualcosa è stato fatto, spiegano le famiglie, ma non è abbastanza. Con dei lavori necessari e promessi dalla provincia parzialmente portati a termine, infatti il dirigente si trova costretto a chiudere due aule che sono l'aula di disegno e l'aula di fisica proprio perché ritenute non sicure. A questo si aggiunge l'interdizione del corpo centrale dal giugno 2018 quando un guasto al boiler causò l'allagamento della scuola con conseguenti danni al solaio. La chiusura non solo ha costretto a spostare aule e uffici altrove ma ha creato anche disagi nell'organizzazione. Era l'accesso principale ed agevole soprattutto perché è molto ampio. Ora i ragazzi e tutto il personale deve entrare in un accesso secondario e il dirigente si è trovato costretto a sfalsare gli orari di uscita per non far assembrare troppe persone nello stesso momento. Ma questo non è stato l'unico crollo registrato all'Its Galilei. A fine maggio è proprio accaduto questo, cioè una parte di calcinaccio in un passaggio dal cortile alle aule è caduta e solo un caso, solo la fortuna ha voluto che nessuno passasse in quel momento. Però se dobbiamo attendere che succeda qualcosa non lo so. Quest'ultimo crollo è stato ripristinato in tempi brevi ma facendo un giro tra corridoi, aule e laboratori ci si rende conto della situazione. Crepe, infiltrazioni, pezzi di calcinacci che si staccano. I genitori ieri sera si sono riuniti in assemblea e hanno deciso di scendere in strada. Parliamo di anziani, persone anche molto anziane in questo caso truffate da falsi medici. Si fingevano medici per carpire la fiducia degli anziani oppure funzionari dell'Inps, dipendenti di una società di servizi pubblici o ancora operatori di non meglio specificate compagnie. Ma il loro obiettivo era uno e uno soltanto, arraffare banconote, svuotare cassetti, portarvia, soldi e monili. E c'erano pure riusciti per un lungo periodo di tempo, però alla fine sono stati identificati dai carabinieri. I militari della compagnia di Est hanno dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, ai danni di altrettanti componenti di una banda specializzata nel più odioso dei furti, quello ai danni di anziani soli. I ladri si presentavano alla porta delle vittime spacciandosi per medici, operatori e funzionari, poi entravano in azione. Nella lista dei colpi, tutti messi a segno fra il Padovano, la provincia di Rovigo e l'area Berica, anche una persona di 95 anni, ultra novantenni invalidi e tanti altri anziani. Le indagini, partite un anno fa, avevano già consentito ai carabinieri di arrestare due componenti della banda anche per fatti di droga. Poi sono stati scoperti altri reati commessi fra il gennaio e l'aprile di quest'anno. Complessivamente sono stati rubati 60.000 euro, 36.000 dei quali in un solo colpo in casa di una donna anziana, più un volume di monili e gioielli ancora da valutare. La magistratura ha diffuso le foto dei componenti della banda in modo da farli riconoscere a persone che potrebbero essere finite nel mirino di questi ladri senza scrupoli. Gli arresti sono stati resi possibili proprio dalle testimonianze delle vittime, che hanno riconosciuto i ladri nelle foto segnaletiche e la Ford Focus utilizzata dalla banda durante i raggiri. Dai carabinieri arriva invece un monito, chiunque ritenga di essere oggetto di un tentativo di truffa o furto contatti immediatamente il pronto intervento al 112, perché farsi raggirare da una finta divisa o da un tesserino di riconoscimento contraffatto può capitare davvero a tutti. È stato il primo cliente della Pede Montana nei fatti, solo che andava al lavoro utilizzando la Pede Montana non ancora aperta e il lavoro non era esattamente un lavoro onesto. Per lui Paolo Fabrello, cinquantenne, nato a Tienema, residente a Carrè, la superstrada a Pede Montana è già operativa eccome. Anzi, di fatto Fabrello ha personalmente inaugurato l'opera e a suo modo ne è stato il primo cliente. Solo che i carabinieri impietosi lo hanno arrestato. Certo, su Google, in futuro, quando si taglierà il nastro della grande opera, lui non sarà ricordato negli annali. Ma per trovare le sue tracce bisognerà spulciare tra le indagini della compagnia dell'arma di Bassano. Perché lui, la Pede Montana, la percorreva a piedi di notte, anche per otto chilometri in mezzo ai cantieri, per andare a lavorare. Solo che per alcuni casi all'attenzione degli investigatori il lavoro non era propriamente onesto, ma era quello di andare a rubare il fondo cassa di negozi e attività del Bassanese. Ci è voluto un'indagine complessa e molta attenzione infatti perché i carabinieri venissero a capo di una serie di furti che avevano colpito ad esempio il nuoto centro di Rosà, un bar a Tiguo o la pizzeria Canova. Obiettivo il fondo cassa appunto delle attività, monetine, ma se sommate facevano comunque un bel guadagno. Fabrello lasciava la moto nascostissima in Rival Brenta, tra l'altro con targa artefatta e si muoveva lungo i cantieri della Pede Montana a piedi di notte per non farsi notare. Per di più indossava anche quattro vestiti alla volta, per apparire molto più grasso, qualora i carabinieri, come poi avvenuto, avessero pensato a lui vecchia conoscenza. Delle forze dell'ordine. In totale ora l'arma sta cercando di capire se per un'altra dozzina di furti nella zona ci sia la sua mano. La Pede Montana, ora priva del suo primo cliente, dovrà aspettare la prossima inaugurazione per via ordinaria. A zero a Bianco, 70 anni per la locale sezione degli Alpini, una tra l'altro località che ha un quartiere totalmente dedicato alle penne nere. È il comune che ha un'area molto estesa dedicata agli Alpini, con un villaggio alpini, con le vie alpine, vie dedicate alle divisioni alpine e alle brigate alpine. Forse molti non lo sanno, ma Zero Branco è il primo comune d'Italia ad aver intitolato un vero e proprio quartiere agli Alpini. Eccole le vie dedicate a gruppi e brigate, dove domani sfileranno le penne nere di tutta la sezione di Treviso. L'occasione è legata alla fondazione del locale gruppo Ana. Zero Branco ha l'onore e il piacere di festeggiare i 70 anni di fondazione del gruppo, avvenuto il 20 marzo del 1949, per opera di pionieri alpini, che furono ben lieti ad operarsi per le penne nere. Erano gli anni del dopoguerra, in tanti erano da poco rientrati da fronti e dai campi di prigionia. Il primo pensiero fu per non dimenticare chi invece era rimasto lì, caduto sulla linea russa come in Albania o in Grecia. E questo ricordo è passato di generazione in generazione tra le penne nere, aggiungendo chi è rimasto sotto le macerie delle caserme crollate nel terremoto del Friuli, o chi più semplicemente è andato avanti. Ecco perché domani sono attese migliaia di penne nere da tutti i gruppi della sezione, che va ricordato conta 10.800 iscritti. Come consuetudine si amasseranno sul piazzale a ridosso della Noalese, per poi sfilare non in centro ma per le vie di quello che considerano il loro villaggio. Raggiungeremo il monumento agli alpini in via dell'artiglieria alpina per consacrare la manifestazione proprio con l'alza bandiera alle 10.30. Un raduno che come da tradizione alpina si terrà anche sotto la pioggia. Noi sfileremo lo stesso, fieri di portare e di indossare il cappello alpino. Ci mancherebbe un alpino si fermi per due gocce. Noi invece ci fermiamo perché poi parliamo di Miss Italia in salsa Veneta.